Raddoppiano in un certo senso i portali del Comune di Terra Nuova. A fianco di quello istituzionale infatti ne nasce un secondo www.terranuova.it che avrà scopo informativo su quanto accade non solo a livello politico e logistico ma soprattutto legato agli eventi. Il sito istituzionale sostanzialmente sarà riservato a quelle per l'appunto sono le informazioni strettamente istituzionali che riguardano l'organizzazione del Comune, i contatti con gli uffici, le delibere della Giunta, del Consiglio Comunale, le determini dei dirigenti e a fianco a questo invece sostanzialmente nasce un nuovo sito che già dal nome si intuisce un po' qual è la finalità perché aterranuova.it indica per l'appunto una certa immediatezza che nel sito verranno descritte le attività non solo promosse dal Comune ma anche le principali attività promosse dalle associazioni che possono essere fruite nel nostro territorio. Quindi sarà un sito dinamico, accattivante che promuoverà ovviamente la facilità di ricerca di informazioni sia sugli eventi, sulle iniziative ma anche sulle opere pubbliche, sui progetti dell'amministrazione. Il sito da oggi è già raggiungibile. Il sito è già attivo per l'appunto dalla giornata odierna quindi invitiamo tutti i cittadini a visitarlo perché è un elemento in più aggiuntivo di informazione e comunicazione.